E' laggata Se non manco che lagga In un lag o poco? Ora ti asciò per la scelta... Allora... Oddio! Ehm... Comunque sia t'ho preso addosso eh M'ho ucciso Blackbeard però... Ah non mi hanno riferimento vabbè No perchè sei del grande il po' Ma io volo 69 di fine e visto che poi è nato... Ah! Mi batte! Leggio... BOL Va bene... Sfessione Ma è Sanning N Marco Aspettino i miei colleghi con le quelle di camera o forse no Non si facendo Non si facendo Stanno bloccando le visual Ma perchè sono bloccate? E non lo so Va a chiedere a Youtube che stamattina erano tipo bloccate a 4000 e non si spostavano da lì le visual della live Ma dove è Fuse? Ma quello succede anche a me le volte tipo... Rimettere la parte quella Rimettere al time c'è la 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 boccia è la sopra perché cazzo sta facendo Sulle scale sta scendendo le scale scendendo le scale le scale durante tessi qua se si sono quasi ma da faca Mi Raga io ve lo dico la sto trattenendo da troppo Che cazzo è il tuo piloto Ferdinare riuscimo si sta a nacca Ferdinare Eh sta a nacca da lui tre loro Eh, c'è da raita Ma c'è muo' essere per nca Aspetta 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 Vai muo vai muo vai muo Hehehehehehe Hehehehe Usa assessore che... Usa assessore che... Mi ha morto... S'è fuori... S'è fuori la finestra Finuto Uaah! Come s'ha rubato Marcucci Ah unasera hehehehe Un m'ho mattı Il secondo me dice Mi vale C'è... Duello po' Non c'era brutto, non c'era brutto. 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 Sono in due, Paco. Io voglio, ma come è possibile? Marco, fuori. Io senza mirare, voglio, ma ho sparato in montagna. Non c'era brutto, non c'era brutto. Non c'era brutto. Non c'era brutto, non c'era brutto. E' brutto? Guarda brutto di mano. ma io stanno il drone ring comunque Nando ci devi guardare la botola sopra fa solo lo scruto, solo montagna non faccio dei scemi guardate una mano a Marcucci fuori Marcucci fuori qualcuno ne vuoi cagliare fuori ma fai fuori ma fai che eh vabbè vai giù grazie mi piace il drone ma io sono due per dire bello Marcucci vai va non ti prendi una bombetta vuoi aprire la botola no no vale no no ma sta fermo no si muove senti quel drone l'entrata principale d'osta Marc ma qui sento che sta soffrendo forse qualcuno lo sta sparando zona cancello Marco io lo sento dalla telecamera capi SS Blitz ma ha fatto ma Raffaele che dici che sta a sinistra non sta là chi è che ha messo il spottino là non voglio io non ci ho messo il spottino si sta a sinistra Blitz no ma ce n'è sta un altro là sta da basso là no blitz blitz sta salendo dalla finestra eh Marco sei lì fatto lonti bella marco bella 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 ho fatto full team Un po' di, diciamo, un po' di cornice